Per questo video è meglio cambiare postazione In questo video vi dirò delle cose belle E notizie Yeah! Prima cosa, comprerò un drone E mi aiuterà nelle riprese Mi aiuterà tantissimo nelle riprese che non potete capire Farò la serie asfalto Tornerà, mi raccomando, verso i mesi cali Non vi preoccupate, vi porto questo bellissimo campionato Eppure magari buttiamoci sulla Street Cup Che sarebbe la Coppa Italia, no? E per chi se lo stesse chiedendo Sa usare il mascheramento Alcuni di voi si chiederanno sicuramente Perché non uso un microfono? Perché sono povero Infatti come telefono ho una ciabatta Che però funziona Pronto? Sì, sì, ti chiamo domani, non ti preoccupi Via Allora, altra notizia? Non ho una notizia Oh, sono carichissimo per questo video Intanto vado a riprendere la ciabatta Infilati Bestia Dannazione Praticamente oltre alla serie asfalto Arriverà un video che però ci sarà d'estate Perché di notte lì fuori Fa meno 20.000 gradi E non posso uscire Vabbè, comunque quest'estate Se fate quel caldo a foso Che si sciolgono i muri Arriva un video con la GoPro Perché Probabilmente avrò anche quella Non è antivibrazione Quindi probabilmente vedrete dei video con Tutta sta vibrazione Però Cercheremo di rimediare Perché so fare tutto ragazzi Non vi preoccupate Faccio pure quello Allora Praticamente L'ho gestito così Di notte C'è sta Sto tizio qui Corre Tocca a uno Quello lì le aiuto a prendere gli altri Tutto questo è gestito con Drone Che comanderò io Infatti non giocherò GoPro affidata a Una persona Che dovrà correre poco E tutti useranno delle torce Perché si registra di notte E per il drone Devo insegnare a qualcuno A usarlo Perché quando gioco io Chi è che usa il drone? Esatto Nessuno Potrei usare anche due telecamere Quindi due angolazioni differenti Per quando vado a fare i video Dal campetto Per le challenge E potrei anche usare Dei microfoni Ma non Dei microfoni Quelli professionali Anche delle Cuffiette Comunque questo qui Era il mio primo vlog Spero vi sia piaciuto Mi impegnerò Con un led Di ogni tanto Tocco il soffitto Bene Sono altissimo E io direi Che per questo video è tutto Vi ricordo di iscrivervi Di lasciare like Di condividere il video Sono stanchissimo E ci becchiamo Al prossimo video Ragazzi E ci becchiamo 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 Grazie a tutti.